eeeh fuck e vabbè dovrò scaricare e tagliare quella parte mo che palle ciao già ecco e grazie mille ho tirato la sua palla in quel buco e lui l'è corto dietro ora è bloccato la sotto mi sento così inutile qui ti seduto ad ascoltare i suoi guaiti che si vanno indebolendo non piangere per il petto non piangere salvatevi ciao laid ciao duderan no no non postate quella clip io astardi astardi è successo che ero convinto di essere mutato ragazzi non pensate male non è la mia intenzione no eeeh merda e adesso? aspetta, ettere, a lui, si levita, si levita, veloci ok, che rischio, che rischio, no, ancora mi butta giù abbiamo perso Edgar levale e rimettilo ciao Taren, comunque grazie mille per l'host no dai, ancora, mi ammazza di nuovo adesso ragazzi, ero uno stronzo, non si fa più attaccare continua a buttarmi giù nooo, nooo è finita è finita cazzo è quella roba dì cazzo è quella quei, che ha fatto? grande, grande, si se le stiamo bravo, grandissima ciao crash aspettate che cambio mancano sei draghi presto prima che crasha, ok, ci abbiamo fatto salva, salva, salva ah, 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 dopo mezz'ora, dopo mezz'ora, dopo mezz'ora a salvare, scappa ahhhh eh, le chiusi ne vedo ad avviato bene a parte di stare potrete anche uccidermi, ormai ho salvato Fatemi quello che volete Mamma mia che sofferenza Quella è morta per davvero Non mi interessa ho salvato Non mi interessa Non mi interessa Non mi avrete Non puoi sanguisugarmi Guarda Grande Sabin ce l'ha fatta Mamma mia Sì ma cosa mi ha dato quel dinosaurio Mi ha dato un cazzo davvero Io speravo in un In qualsiasi oggetto Di qualsiasi tipo Che potesse aiutarmi ad andare avanti nel gioco Invece non mi ha dato un cazzo ragazzi Abbiamo perso mezz'ora per niente Ma almeno abbiamo la soddisfazione della vittoria Che è ciò che più conta ragazzi È ciò che più conta Bestemmie che non avete sentito Solo se li ha ammazziti da un inton Va bene No Comunque ve la cancello Che la clip Siete stati degli stronzetti Cioè io sono stato uno stronzetto Probabilmente ho mutato il gioco Invece del microfono Credo di aver fatto questa cappellata Ti levi Gau che non piace a nessuno Dai spostati Mi blocca la strada Dove va? Devo andare io di là Guarda che mi ha fatto avvicinare Oh Un costino si è caricata su YouTube Va bene ve la lascio qui Dai Però non posso pubblicare il video Su YouTube con quella bestemmia Devo ritagliarlo per forza Vi lascio la clip La clip me la lascio Madonna che freddo ho fatto Ma non si può recuperare vita Vabbè andiamo Una città Andiamo E' il pulsante sulle tue Non so se si senta ancora Ma dovrebbe fare tipo un brusio Quindi non In realtà Bastava che premessi 9 Non funziona Questo gioco in atto Non mi funziona nessuna Scorciatoia Per Hobbs Non capisco perché Mi sa che colpa di quello Mi sa che colpa del gioco anche quello Sicuramente qui non rischi Con quella cosa del mutare Vero? In che senso? No vabbè Li ho visti Gli streamer che bestemmia Ma tutte le ore No su Twitch non c'è il problema Però Comunque non Non si fa Dai Non si fa Era un momento di rabbia Non dovevate sentirlo Fri bestemmia Ok Vabbè almeno abbiamo livellato Ma comunque avete visto cosa ha fatto Selle e sale a fine Mi confondo a blur Se è un kirichetto Ecco esatto No no Non c'è sta Sta che vado su Twitch Ma neanche su YouTube In realtà Appunto ha nominato blur La torre che è famosa per quello Ok Allora dove devo andare? Ma davanti nel gioco dove devo andare? Dove ci penso? Nessuno mi ha detto niente Questa torre qui la posso raggiungere? Oddio c'è strago Mi ha ricordato il suo nome Ma Mi ignorano E mi passano attraverso Mi bloccano Ragazzi è strago E' lui? Era Napoli La storia tipo la pizza Che lol Non mi parla però Se mi dai 100.000 Ti dico dove Trovare i decisori segreti Ma cazzo Ma cosa Strago è diventato Il devoto di Kefka Ma scherziamo La main story L'abbiamo fatta fino all'occhio Ragazzi Solo quel dinosauro lì Che ha ucciso Non pensavo la parte La main È una roba funzionabilissima Ah Ci hanno detto di andare a Narsh È vero Ci hanno detto di andare a Narsh Dove andare a Narsh Dove andare a Narsh Marsh Verso Narsh Marsh Trago ti ha tradito Non fatti Bastardo Ci è rimasto male Non lo aspettavo Boh Fa ricordo Ci avevano detto Che ci serviva luck Per andare avanti Ma minchia Dopo quel dinosauro Tanchia roba No Poi li mo fanno levitazione Che fanno Ma di bene No no Levitazione Basta Levitazione Edgar Non devi più farlo I porci Mi ricordano una Cleo Basta Basta Che sta fanno Che sta fanno Che ha fatto L'occhiolino Ma che cittato Si è rotta i coglioni Anche lei Giustamente Ha detto Basta Con sto drago Di merda E l'ha ucciso Sarà stupata Di crash Anche lei Vedete adesso Che non crasha Da almeno Una decina Di minuti Perché a volte Non lo fa Così spesso Va Ogni 20 minuti Almeno Proprio puntuale Nello scopo Dei ventesino Minuto E' un po' di pesata Quest'uomo Non abbastanza Questo si Il tizio Che cavalca il coso E' veramente bello E' tetra Ragazzi No Jack No Vabbè Di lui bussa Con l'occhiolino Gli sbloccano la porta Entra E non c'è un cazzo Di nessuno E l'ha fatto tutto Per niente Quindi Cosa mi serve Che faccia sta cosa Non c'è niente Su ste stanza Notte Jack Mi raccomando Giocatelo anche tu Però se vedi Che comincia a crashare Non fare come me Che ho continuato A giocarlo Nonostante tutto Jack Chiedi subito Il rimborso Chiedilo subito Se fai la versione Di Steam Se sei furbo Non fai la versione Di Steam E ti risparmi Clip Come Quella di prima Ti stavo aspettando Volevo darti questo Ho gestito L'armeria Per 70 anni Ma un'energia Pari a quella Di questa piatta Non l'ho mai sentita Se la levigassimo Fino a formare La lama di una spada Sono certo Che creeremo Un'arma molto potente Notte Jack Grazie mille Per l'host Grazie veramente Tanto Che ne dici Forgio la spada Forgio la spada Ragnarok Conservala come Magilite Ragnarok Ora conserverei Sono basso Tanto adesso Senti solo me Perché il gioco È appena crashato Passo un pochino Il gioco Allora Da quando ho toccato Il tastino Va bene Mirko Adesso dovrebbe essere Sì Adesso dovrebbe essere Abbastanza più alto Più o meno E allora Ragnarok Se lo tengo È un tizio Che posso evocare Giusto? Sì È una spada Ultima Ok Che è la magia Più potente Va bene Sappiamo Consuma solo 3pm No aspetta Non ultima L'utilizzo di Ragnarok Consuma solo 3pm E se Facevo la spada Ecco Voglio avviare il gioco Facciamo finta Che sia crashato Di nuovo Tanto Liquidino Dicono Che se scommetti La spada di Ragnarok Nell'arena Tieni l'arma Più forte del gioco Aha Faccio la spada Allora Anche perché Non matizza Molto Ultima Onestamento Onestamento Soprattutto Ciao Giordiii Facciamo la spada Allora Va bene Vai Ho pure detto Va bene Vediamo Questa spada Chi la può usare Ragnarok Ebbè 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 Minchia Minchia Guardate la destrezza Che passo Come stai Giordigno Come stasso Stai giocando a Blitzball Ignora Porta subito Il Colosseo Dov'è il Colosseo Ok Quale cazzo sta Stai Cazzo Il 1.198 Quella è una Guarda Fortissima Sicuro Che Me ne danno Una migliore Ma che roba 1.420 Vabbè Però 6.88 Ah È una zona Che ho già trovato Quindi Colosseo Fammi vedere Colosseo Final Fantasy 6 Final Crash Fantasy Colosseum Perché mi trovo La mappa Di Shanghai Se scrivo Colosseo Qual è il Nesso Colosseo Ma è quello lì Visto Visto Andiamo Madonna Tanta roba Insomma Mi stai dicendo Va bene Sicuro Che posso Prenderla Subito Uomo Uomo Della prova Ha lanciato La magia Che aveva detto Ok Stavo spaventando Era la magia Di Ragnaro Quella No Suppon Che ci sia Un boss Da battere Durante Eeeee Vediamo Se è fattibile Prima Allora Comunque E' questo Mi salva Qua fuori No Ah Questo Era con Ultros Qui E' vero Come faccio A scommetterlo Madonna 400k E' la notte Per dormire Tutana Tum 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 C'è 2 2 3 3 Eeeh, Akai? Dove si fa le scommesse qui? Eh, se doni un bellissimo oggetto, come faccio? Non ho capito, dal tizio vestito di verde, mi pare, questo? Mi piacere Ah, ok Mi piacere 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 in ordine, non posso metterli in ordine. No, non posso, niente. Terza colonna a metà. Eccolo. Pogliamo con una getta. Dai, non toglie manco così tanto. Vabbè, ma lui attacca 80.000 volte in una volta. Vabbè. Ma l'ho persa, quindi, giusto? Pesante questa cosa. Pesantissima. Come faccio a fare di mura adesso? Mi devo chiudere e riaprire. Adesso che non stava più crashando, mi devo chiudere e riaprire. Ma io l'ho salvato, l'ho salvato fuori da sto posto. No, non continua. Carica. Sì, ma non credo da avere speranze contro quel coso. E poi lui attacca e basta. Io non comando il tizio, fa tutto lui. No, ma qui pagiata. Che panna. Come dopo aver perso la spada? Non so come si chiama. Dai, vediamo. Perché non me lo fai selezionare? E' il crash. L'ho detto, io non devo riavviare. Ho capito, se non me lo dici che stavi scherzando. Ma a fine che io salvo magari... Era come la carta di Ifrit che dovevi perderla per riaverla. Che ne so. Faccio pensieri strani dopo. 1. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 11. 12. 2000. Zero. Replex. Può essere un'idea. GG. GG. Replex è GG. Aia. Merdo, ho sbagliato a darle ultimo a Ducadro. Miss. Piano insufficiente, GG. Posso fare attacchini del cazzo adesso, Ceres, vai. Andante. Oio. Vai. Piccola Ceres. Eh, vabbè. Piano insufficiente, GG. Piano insufficiente, GG. 8. GG. GG. Ah, le toglie di meno perché il nemico ha meno vita adesso, ok. Eh, è stupido però, eh. No, sei intelligentissimo. Che puttanata, metterle ultima. È la Brandolux? Sì, il Brandolux è gianto, 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 gianto. Ok, è qui. Eh, Crash, al gioco. Ma di, ma di, ma di, ma di, ma di. Ma di. Così triste che pure la mia webcam è morta. Che cazzo? Che è successo in la webcam? dai lo vedi sto usando un metodo diverso adesso per streamare la webcam niente non va più ho scambiato i colori o sbaglio? ok abbiamo visto che comunque non è vabbè che io l'ho mandata già mezza morta porca puttana anch'io che faccio ste capellate però mamma mia ok dai lo scocco vai comunque fare reflex è stata la cosa più intelligente che ho mai visto fare ad un'intelligenza artificiole mamma mia mamma mia facciamo così tu la curi bravo così cambi arma così bravo adesso esci salvi bravo torni dentro non so chi sono questi ma perché edgar sta ancora volando? non so chi ti letgo ok non è stata toccata Ah, guarda, guarda Oh, ecco, c'è la città, c'è la città C'è la città Dimmi che ti stai mettendo reflux Buffera ma che cazzo stai facendo Ma botto non mi fa nulla perché insiste No forse Miss Ha già finito il PM quel pazzo Stupido Aio Eh per quello si ne ho ancora però Zero Ma è scarsissimo sto coso Sembrava chissà cosa Ma basta far magia del cazzo Da 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 non dovrebbe mancare molto l'olce è riuscita pure a far caos è tanto buono vabbè è morto dai era facile non crashare esci sono mutato non è vero smettila sono uscito no salva non si sa mai tanto sul terzo no no niente sono usciti nel nostro compito mi dici che questa è migliore quindi me la assicuri ok la vinta lei se la tiene lei no niente no niente no niente no niente Testiamola. EGG, 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 EGG cazzo, da averla presa prima contro quel drago di merda. Buono dai, questo ci semplificherà il gioco almeno. Buona, per andare avanti in Arsh, giusto? Sì, dove eravamo prima. Noi dobbiamo andare da terra? Oh, il gioco non dice più un cazzo. Ho detto che si ottiene anche Shadow, ma quindi è vivo? Vai, shottatrice, uccidi tutto. Oh, Sancta pure. Madonna, Santissima! Mestrabiliante! Non ti l'aveva spoglierato Ken? No! No, Kai! Noi dovevamo trovare Shadow nella caverna, se lo aspettavamo durante lo scontro suo di Kefka. Trovavamo Shadow nella caverna al posto di Realm, quindi non sapevamo ancora se fosse vivo o morto. E' strabiliante! Consume MP per attaccare comunque, non l'ho notato. Sì, essere che mi sono venuto. Ci sono tutti, ma ci sono da suscritti, quindi non l'ho notato. Sì, 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 sì. Mi ti mandato a fail Twitch Dai no Spop Cosa fandi Non voglio essere conosciuto per la bestemmia Che cazzo è Dove sto andando Sono giusto Ah giusto Volevano svegliare l'esper congelato Quindi dovrei essere giusto Giusto Non ho di comandare a te No No direi che è meglio di no Mi sono macchiato la felina penale No Se mi vedesse esero Qui si fanno Madonna 3000 Gli ha tolto quell'altra pazza Lui arriva a 3000 con un critico No Ho finito con l'Ares Ma è Finito con l'Ares 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 Oblio e stop Non è Finito con l'Ares Manca solo magia, sabbia proprio quello che ha preso tutto cazzo, ha preso tutto, penso di essere giusto perchè vedo che comunque quei mostri sono forti non so di certo gli ultimi mostri usciti fuori, cioè sono gli ultimi mostri usciti fuori, ma non in quel senso, però non tolgono un cazzo in effetto, allora non lo so, potrei anche sbagliarmi bravo 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 Solti di qua all'esper no? Cosa fa? Uno, va bene. Cosa fa? 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 mi sento più forte, mi sento più forte no, forse è più forte l'altro team in realtà, con un dubbio, forse è più forte l'altro, anche perché c'è il lock con la spada finale solo a terra non fa un cazzo di danno, mi sto cavandolo più in diretta, no, è il sonno, è il sonno ok ci siamo guide la trago stava qui sotto quindi, non mi capisco orga esplode boom madonna 8000 smetti la terra, fammi togliere quell'arma a te, ma non l'avevo già tolta poi se ne va mica st'arma di merda spada emoris assorbe il pivito dell'avversario che palle è proprio un attacco inutile lei per me lo faccio di più con l'ultimo a sto punto andiamo aperto la cosa qui ok deve essere qua sotto il drago allora, se non ho capito male eccolo qua come ho fatto non averlo visto prima ok ci siamo guys è il momento per il drago è il momento per il drago è il momento per il drago ok 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 niente di che per adesso però è il primo attacco via pure Sancta via pure Sancta ok 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 Non è che esce subito sempre adesso ed è morto no vabbè facciamo di non sottovalutarlo Ma gli ha dato vita ma gli avrebbe tolto tantissimo cazzo Morto 7260 terra in trance madonna non è durato niente sto drago poverazzo Allora Mog ha preso Esna, Locke ha preso Mergira, Sabine ha preso Pokoga, Terra ha preso Venish, Terra ha preso Furia, ha ottenuto Murakumo Ma non era l'arma che mi avevi detto tu Akai, mi hai mentito Forma di drago Mi hai mentito Ok Ma ora come cazzo torno indietro gg mica c'era un'abilità per tornare indietro non era del remoto? è un oggetto forse Murakuma, la leggendaria katana di Tama che si credeva perduta ti avevo scritto che i drop cambiano, uno dungeon speciale nella versione della questa era una per Chan, ok vediamola Chan quanto gli da? tra l'altro gli serviva pure minchia si ne aveva proprio bisogno guarda lì che... che da 135 mi va 224 gg eh si ci voleva dai boh io i draghi che ho trovato li uccisi tutti per adesso comunque eh io comunque sono sicuro di aver avuto un oggetto che mi faceva uscire dalle caverne da questi posti qui immediatamente come faccio a ordinarli? ma non usa questa è una questa è una questa è una funziona la questa è una Dodò e Cianna adesso? Hmm, provo meglio. Di più di Celes almeno, quella con l'attacco più scarso. Oh, ammazza quanto sono resistenti queste, che ne hanno? Dimmi come mi teletrasporta fuori, ok. Perfetto, ho un po' proprio sperar di meglio. Boh, andiamo già a Narsh perché penso che per andare avanti dobbiamo andare lì. O lì o alla torre di Strago, lì Strago. Penso che dobbiamo andare alla torre però. Vabbè, noi saliamo qui. Perché c'ho Setzer, voi? Che cazzo è successo che c'ho Setzer, scusa? Tutti qua in giro. Generale Leo credo di cominciare a comprendere il significato delle due parole. È morto Generale Leo. Era quello che parlava tutto così. Allora, io direi di tenere terra. Lock. Togliamo anche Cian dai. Ammazza, ma il Moguri c'ha 38 di livello, ma che cazzo? Cian, cian, cian. E... Basta, Celes, per un po', dai. Anche se mi ha dato tante soddisfazioni. Basta, Celes. Abbiamo pure c'è un livello altissimo, quindi direi di no. Direi... Edgard. Ok. Mi ha detto che Cid poteva essere salvato. Eh, ma chi lo sapeva proprio se aveva fatto queste cose. Quando mai in un Final Fantasy ci sono queste cose qui? Che palle sta cosa. Eh, Grascia. Dovevo salvare, cazzo. Dovevo salvare. Volevo farli riposare, salvare e chiudere. Niente, il gioco non mi permette neanche questo. Madre di diosse. Eh, mo sono ancora con sto stronzo. Sì, sì, sì. No, sì, sì, sì. Allora, terra. Look. Prendo i comandi. La città più vicina, cazzo. No, il castello no. Questa. La seconda era un salvo pure Cid, esatto. Qua non posso salvare. Qua mi sistema pure questi, già che ci siamo. Guardate. Il sabino lentino, lugo lo posso usare. Lo lo posso toglierlo. Tiedi lino a finito. basta di imparare lui scusa solo tuona e dagli e dagli il ramo ok non crashare salva e ce l'abbiamo fatta tra l'altro io ho fatto il dato 3 per la spada ma in realtà ho soprascritto quello sbagliato vabbè sono tutti da cancellare questi due qui in realtà si continua da qui e basta così torna più indietro oh che bello questo team ragazzi è stata una live molto 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 faticosa una delle più faticose che io abbia mai fatto siamo a 32 ore di gioco e si continua si continua ma lo finiremo prima o poi lo finiremo ci riusciremo non ci arrenderemo cazzo vi do una buonanotte vi ringrazio per tutto per chi c'è stato alle partite su rocket league per chi c'è stato alle partite sulle 4 dead per chi ha guardato questo bellissimo gioco che non crasha e niente io vi saluto e vi mando da giordi che sta facendo final fantasy 10 andate a dare un bacino a giordi buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.